Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. L'Ontario è una delle 13 province del Canada, la più popolosa del paese, con una storia ricca di omicidi e serial. Come l'ammazzacameriere, il folle assassino, Bruce McArthur e lo strangolatore del balcone. Da un certo momento in poi London in Ontario è diventata quindi tristemente nota come la città con il più alto numero di serial al mondo. L'Ontario è anche una provincia con un gran numero di casi di persone scomparse e di omicidi irrisolti. Come avrete capito il caso di oggi ci porterà proprio in questa provincia. Parleremo di un omicidio irrisolto che risale addirittura a dicembre del 1914 quando il 21enne William Billy Stone fu ucciso con un colpo di pistola a Whitby in Ontario. Si tratta di uno dei più famosi casi irrisolti di questa zona. Stiamo parlando di un caso veramente insolito con tantissimi colpi di scena. Billy Stone era un operatore telegrafico della stazione di Whitby, Junction. Era un giovane gentile e premuroso amato dalla comunità. L'11 dicembre 1914 Stone stava facendo il turno di notte quando un singolo colpo di pistola risuonò nella stazione. La gente rimase sbalordita dalla sua morte e faticò a capacitarsi del fatto che fosse stato ucciso in un modo così spietato. Per quanto spaventoso potesse essere il fatto che Billy Stone fosse stato ucciso in quel modo, la cosa che faceva più paura era pensare che l'assassino di quell'uomo fosse ancora in circolazione, libero di colpire ancora. A più di cento anni dall'uccisione di Billy Stone ci si chiede ancora chi gli abbia sparato e perché. All'epoca la polizia locale aveva effettuato le indagini del caso e interrogato le persone coinvolte, ma alla fine il suo omicidio rimase comunque risolto. La stazione ferroviaria in cui Billy Stone è stato ucciso è ancora in piedi, anche se ha cambiato sede dopo l'omicidio. È diventata un edificio storico protetto e ospita una galleria d'arte. La maggior parte della costruzione presenta ancora le stesse caratteristiche dell'epoca di quando Billy Stone vi lavorava. Si dice che si è infestato dal fantasma di Billy Stone e molte persone dichiarano di averlo visto camminare tra le pareti del piccolo edificio. Ma, come sempre, voglio raccontarvi questa storia dall'inizio. William Percy Stone, o Billy Stone, come era conosciuto da amici e familiari, è nato il 12 febbraio del 1893, figlio di William H. Stone e di Edith Isaac. Billy aveva una sorella maggiore, Edith A. Stone, che purtroppo è morta da piccola, e due sorelle minori, Pearl e Annie, nate rispettivamente nel marzo del 1899 e nel luglio del 1902. Billy aveva trascorso tutta la sua vita a Whitby. Si era da poco diplomato alla scuola superiore e aveva iniziato a lavorare come operatore telegrafico presso la stazione di Whitby Junction. Era incaricato di registrare i treni che transitavano, ma poiché faceva il turno di notte, aveva anche il compito di cacciare i senza tetto che cercavano di dormire in stazione. Billy Stone viene descritto come una persona amichevole e affabile, di buon carattere, un gran lavoratore. Era ben voluto sia dai clienti che dai colleghi e i residenti di Whitby passavano spesso in stazione a qualsiasi ora per parlare con lui. Proveniva da una famiglia molto rispettata nella piccola comunità. Era credente e frequentava la St. John's Church, un grande edificio signorile che si trovava vicino a casa sua. Sebbene vivesse ancora con i genitori e le sorelle, le cose stavano per cambiare. Di recente, infatti, aveva acquistato una proprietà e aveva intenzione di ristrutturarla. L'idea era di trasferirsi quando sarebbe stata pronta, ma purtroppo non ha mai potuto farlo a causa del suo triste destino. Era alto 1,80 m ed era un giovane esile, ma era sempre stato in grado di tenere testa da alcuni dei ragazzi più grandi di lui che abitavano in città. Poiché parte del suo lavoro consisteva nello sfrattare il senza tetto, era importante che potesse proteggersi fisicamente nel caso in cui qualcuno fosse diventato violento, soprattutto perché di solito lavorava da solo. A detta di tutti, Billy Stone era un normale giovane, amichevole di provincia, con tutta la vita davanti a sé. Non sembra avere nemici e tutti pensavano che non avrebbe mai fatto male a una mosca. E allora, com'è possibile che abbia fatto quella fine? Perché qualcuno avrebbe voluto ucciderlo? La sua morte scosse la comunità. Quando si diffuse la notizia del suo omicidio, gli abitanti di Whitby si affollarono presso la stazione ferroviaria con il disperato bisogno di scoprire cosa fosse successo. Gli amici e la famiglia di Billy Stone erano sconvolti per la perdita improvvisa. C'erano così tante domande intorno al suo omicidio, ma sfortunatamente c'erano pochissime prove su cui basarsi. Ma prima di addentrarci nella parte investigativa dell'omicidio di Billy Stone, diamo un breve sguardo alla scena del crimine. La stazione di Whitby Junction, dove Billy Stone lavorava, fu inaugurata nel 1903. Si trovava al 1450 di Henry Street a Whitby, in Ontario. Come ho detto prima, l'edificio esiste ancora, conservato come galleria d'arte pubblica, anche se è stato spostato per ben due volte dalla sua posizione originaria. Era situata tra la stazione di Pickering, che viaggiava verso Sania, Ontario, e la stazione di Oshowa, diretta a Montreal. Si trovava sulla Grand TAC Railway, la linea principale della Canadian National Railway. La Canadian National la chiamò Whitby, in seguito alla chiusura della stazione centrale di Whitby, che era situata tra Whitby Junction e Manilla Junction. L'edificio ha sostituito la precedente struttura, che era stata demolita, che si trovava sul lato nord dei binari. La stazione era un nodo di scambio con la Port Whitby e Port Perry Railway. Il 10 marzo 1882 la Port Whitby e Port Perry divenne parte della Midland Railway of Canada. Nel 1884 divenne poi parte del Grand TAC, anche se l'accorpamento non fu autorizzato fino al 1893. Il Grand TAC aggiunse un binario supplementare, che andava dalla stazione a raccordo. Questo permetteva ai treni di andare avanti e indietro da Whitby Junction a Linsday e altre stazioni. In origine il nome della stazione era dipinto sui lati del tetto lungo i binari. C'era anche un'insegna montata sulla grondaia sotto il tetto, aggiunta prima del 1920, ma negli anni 50 il nome sul tetto era scomparso. La stazione è stata progettata in stile ferroviario, un prodotto del dipartimento edilizio del Grand TAC. Aveva un grande tetto sporgente che circondava l'intero edificio per proteggere dalle intemperie i passeggeri sulle piattaforme e sulle entrate. Si trattava di un edificio in stile alto vittoriano con torrette, uno stile particolarmente riconoscibile. Negli anni 60 la stazione di Whitby Junction fu chiusa. Stavano sorgendo nuove autostrade e la stazione era stata ritenuta superflua perché la gente usava più le automobili dei treni. In pratica, dato che la benzina costava poco, la gente faceva meno affidamento sui treni come mezzo di trasporto regolare. L'edificio era destinato alla demolizione, ma per la storia delle ferrovie, un'altra stazione ferroviaria demolita sarebbe stata una grave perdita. Fortunatamente un gruppo di artisti è intervenuto e si è assicurato che la stazione fosse salvata dalla palla da demolizione. Nel 1967 avevano costituito una galleria d'arte comunitaria e nel 1969 avevano acquistato la vecchia stazione ferroviaria. Nel 1970 la stazione fu trasferita nella nuova sede, nell'angolo nord-est in Victoria e Harry Street. Da allora l'edificio è diventato la galleria d'arte della comunità. Nel 2004 l'edificio è stato nuovamente spostato dall'altra parte della strada, la sua sede attuale nel parco Iroquai di Whitby. L'espansione è stata progettata da Phil Goldsmith di Goldsmith Borgal & Company. La riapertura è avvenuta nel 2006 con il nome ufficiale di The Station Gallery. Ma torniamo al povero Billy Stone. La notte in cui fu assassinato si trovava da solo nella stazione ferroviaria. Faceva il turno di notte alla stazione di Whitby, dove di tanto in tanto residenti locali, personale delle ferrovie o il suo miglior amico lo andavano a trovare. Era un buon lavoro, tranquillo, che Billy poteva svolgere con poche distrazioni. A mezzanotte 37 un singolo colpo di pistola risuonò nella piccola stazione ferroviaria. Billy Stone era stato colpito all'esterno. Il proiettile aveva colpito il tessuto muscolare cardiaco e si era conficcato nel polmone sinistro. Il colpo si sarebbe rivelato fatale. Prima di morire, però, Billy riuscì a chiamare il centralino della Bell Telephone, locale, e disse alla giovane operatrice che gli avevano sparato. Chiamatemi il capo della polizia, presto, disse Billy. Mi hanno sparato. Chi è stato? chiese Leslie Cormack, l'operatrice telefonica. Non lo so, ma chiamate il capo, presto, risponde Billy. Quando gli fu chiesto chi gli avesse sparato, Billy non fu in grado di dare un nome all'operatrice. Cormack lo mise subito in collegamento con il capo della polizia, ma ormai era troppo tardi. Mac Grotty parlò con Leslie Cormack, che raccontò rapidamente ciò che l'uomo le aveva detto. Mac Grotty si precipitò in centro e chiese al guardiano notturno John Peterson e a due dei suoi uomini di recarsi alla stazione per indagare. Quando le autorità arrivarono alla stazione ferroviaria, Billy Stone era già morto. Gli avevano sparato sul fianco sinistro, appena sopra il cuore. L'assassino aveva già lasciato la scena del diritto. Notarono che la lampada da scrivania era appesa alla finestra anteriore, con il paralume girato per proiettare la luce sui binari. All'interno della stazione tutto era tranquillo, ma potevano vedere il corpo di Billy Stone che giaceva sul pavimento. Le autorità erano perplesse su alcuni aspetti del crimine. Il movente poteva essere una rapina manarmata? La polizia non la pensava così perché non mancava denaro dal cassetto dei contanti. Non c'era nulla fuori posto e l'armadietto dei biglietti non era stato toccato. Non c'erano segni di lotta e l'unica cosa trovata nelle tasche di Stone erano le sue chiavi. Si scoprì poi in seguito che aveva lasciato a casa l'orologio. In realtà, a parte il fatto che Billy Stone era stato ucciso con un colpo di pistola, non sembrava esserci nient'altro di strano. Era stato chiamato un abitante del luogo, il signor Frank Allway, per forzare la porta dell'ufficio. Purtroppo fu subito chiaro che Stone era già morto. Il signor Frank Allway era stato un caro amico di Billy Stone e spesso andava a trovarla alla stazione ferroviaria. Fu molto turbato nello scoprire che il suo giovane amico era stato assassinato. La polizia iniziò a esaminare in maniera più approfondita la stazione ferroviaria cercando di capire se fosse possibile ricavare qualche informazione. Anche la più piccola prova avrebbe potuto condurli all'assassino di Stone. Notarono che il registro degli ingressi era stato compilato di recente. C'era scritto che Billy Stone era entrato in un treno merci diretto a Est a mezzanotte e un quarto, 20 minuti prima che gli sparassero. L'ultima persona che aveva visto Billy Stone vivo era stato il contabile del manicomio locale che era passato davanti all'ufficio del controllore a mezzanotte e 5. Il telefono pendeva per metà dalla scrivania, presumibilmente gli era caduto di mano mentre era al telefono con Cormac e poi con McGroty. Il ricevitore giaceva sul pavimento parzialmente sotto il corpo di Billy Stone. La polizia controllò i vestiti di Billy alla ricerca di polvere da sparo e stabilì che non avendone trovata doveva essere stato colpito da una certa distanza. Si riteneva che gli avessero sparato dalla sala d'attesa della stazione. Billy Stone eseguiva sempre il programma ed era preciso come un orologio. Spegneva le luci della stazione a mezzanotte esatta, ciò significava che l'unica luce presente nella stazione ferroviaria era la piccola lampadina posta sopra di lui. C'erano solo alcune gocce di sangue sul pavimento e sui vestiti di Stone. Sul pannello dell'armadietto lì vicino invece c'era un'ampia zona coperta di sangue che assomigliava all'impronta di una mano insanguinata. Per i poliziotti non c'era molto altro su cui basarsi, avevano trovato un'impronta di mano insanguinata sulla scena del crimine, ma non erano in grado di determinare chi l'avesse lasciata lì. Entrambe le mani di Billy Stone erano pulite. Circa la stessa ora in cui gli uomini arrivarono alla stazione ferroviaria, un treno merce diretto a ovest uscì da Whitby. Le stazioni occidentali furono avvisate. La polizia arrestò due giovani, Gilbert e Cecil Connors, di 17 e 21 anni, per aver rubato un passaggio sul treno merce. I due giovani vennero trattenuti per essere interrogati, in quanto possibili sospettati della sparatoria, ma vennero rilasciati poco dopo, perché era stato accertato che erano saliti sul treno a Oshoa, a mezzanotte 40, la stessa ora in cui era avvenuto l'omicidio. La notizia dell'omicidio di Billy Stone si diffuse a macchia d'olio in tutta Whitby e la gente del posto faceva girare un sacco di pettegolezzi su ciò che poteva essere accaduto al giovane telegrafista. La gente era sconvolta dal fatto che il giovane fosse stato ucciso in un modo così orribile e voleva risposte, voleva sapere chi fosse il responsabile. In un primo momento si pensò che si fosse trattato di una semplice rapina, ma sembrava improbabile dato che l'autore non aveva preso il denaro dal cassetto. Questa idea sembrava la meno plausibile. Altri pensavano che potesse trattarsi di un vagabondo che aveva cercato di pernottare alla stazione, visto che Billy Stone spesso li doveva cacciare dalla stazione ferroviaria. Nei giorni successivi emersero molte altre teorie, mentre le persone ipotizzavano chi avesse potuto compiere un atto così afferato. Le tre teorie principali erano le seguenti. Si sarebbe potuto trattare di una relazione o di un triangolo amoroso finito male. Potrebbe essere stato fatto fuori per un debito di gioco, oppure potrebbe addirittura essere stato ucciso dal padre, forse per questioni di denaro. Il coroner C.F. MacGillivray aveva convocato la giuria L.F. Richardson, il primo giurato, Arthur Ellis, Peter Williams, Fred C. Lind, Fred Rogers, James Gray, William Hopper e John Smith. La giuria aveva visto il corpo e ascoltato il capo, MacGrotty, raccontare cosa fosse successo la notte in cui Billy Stone era stato trovato morto. Il dottor E.L. Proctor, dopo aver eseguito un esame post-mortem, aveva scoperto che il proiettile era passato attraverso il tessuto muscolare del cuore e non attraverso le camere cardiache. Questo spiegherebbe il fatto che Billy Stone fosse riuscito a usare il telefono poco dopo essere stato colpito. Il proiettile era rimasto conficcato nel suo polmone sinistro. Si trattava di un calibro 35 Dominion. L'ispettore Greer, del Dipartimento di Polizia Provinciale, era stato in città per effettuare un'attenta ricerca di eventuali indizi che avrebbero potuto portare all'arresto dell'assassino. Greer e MacGrotty si erano recati al parco Hayden Shore nella speranza di catturare l'uomo che era stato visto aggirarsi da quelle parti. Il vagabondo aveva cercato riparo nel cottage estivo del signor Samuel McCloguing di Oshawa. Un residente del luogo, il signor John Chesnut, aveva raccontato che il misterioso vagabondo era apparso per la prima volta nel parco la notte precedente l'omicidio. Era stato visto alle 11 e sembrava nervoso. Era poi uscito dalla porta e si era diretto verso est. John Chesnut si era nascosto nel cottage aspettando il ritorno del vagabondo che però non riapparve mai. I due uomini setacciarono il cottage dalla cantina alla soffitta ma non riuscirono a trovare traccia del vagabondo. Ritenevano che potesse essere lui il responsabile dell'omicidio. Durante il suo breve soggiorno il vagabondo era rimasto in soffitta dormendo e cucinando in una delle stanze del sottotetto ma sembrava che se ne fosse andato per sempre. I due uomini hanno preso le misure delle impronte lasciate dal vagabondo nella speranza di confrontarle con le prove lasciate alla stazione di Whitby. Michael Basso che lavorava come interprete italiano a Toronto ha contribuito nelle indagini parlando con alcuni dei lavoratori italiani assunti per l'appalto delle fogne. Ha cercato di scoprire se qualcuno degli uomini del progetto fosse assente dal cantiere la notte dell'omicidio nella speranza di poter scoprire chi fosse l'assassino. C'era la possibilità che uno di loro fosse responsabile della sparatoria o che uno degli operai avesse visto qualcosa che potesse essere collegato al crimine. Non scoprì nulla di importante. Le sorelle minori di Billy Stone, Pearl e Annie, erano molto più giovani di lui ed erano sconvolte dalla perdita del loro fratello maggiore. Una delle sorelle raccontò alle autorità che la notte della morte del fratello aveva sognato che Billy veniva ucciso con un colpo di pistola e che l'ora cominciava esattamente con quella in cui era stato effettivamente ucciso. Il giorno del funerale di Billy Stone si era abbattuta sulla zona un'enorme bufera di neve. Era il tempo tipico dell'Ontario a dicembre ma quella bufera arrivò nel momento peggiore. Nonostante le cattive condizioni meteorologiche il funerale di Stone fu celebrato comunque. Si era presentato un gran numero di persone per rendergli omaggio. La cerimonia iniziò nella casa di famiglia di Billy Stone, a ovest della stazione di King Street. Il corpo era circondato da composizioni floreali. Erano presenti la madre e le sorelle di Billy Stone, oltre a dei colleghi operatori che avevano assunto il ruolo di portatori della vara. Il gruppo di persone in lutto si recò alla chiesa di St. John dove Billy Stone aveva ricevuto la cresima. Il reverendo F. Glover ufficiò il servizio funebre continuando la funzione iniziata nella residenza di Stone. Billy Stone fu deposto in un lotto a est dell'ingresso della chiesa, in piena vista della stazione ferroviaria in cui aveva perso la vita. È stato pianto da tutta Whitby, poiché aveva trascorso tutta la sua vita nella zona ed era conosciuto da tutti. Fu un momento tragico per la famiglia Stone. Avevano già perso la loro primogenita, quando aveva solo pochi anni, ora che anche la vita di Billy era stata stroncata, agli Stone erano rimaste solo le due figlie più piccole. Una volta che il corpo di Billy fu deposto, le autorità avviarono le indagini sul suo omicidio. Nel gennaio del 1915 la polizia indisse un'inchiesta per determinare esattamente cosa fosse successo a Billy Stone. Si cercò di risolvere il caso, ma si giunse sempre a un punto morto. Abbiamo visto che una delle teorie prese in considerazione era l'idea che il responsabile fosse un sensatetto o un vagabondo locale. Spesso gli uomini che Billy aveva dovuto cacciare dalla stazione erano più rudi o più grandi di lui, ma non si tirava mai indietro. Questo ha portato alcuni a credere che il responsabile del suo omicidio potesse essere quindi un sensatetto. Uno di loro potrebbe essersi arrabbiato per essere stato costretto a uscire dalla stazione ferroviaria. Aveva già avuto dei problemi con alcuni sensatetto, quattro mesi prima della sua morte. Si sospettava che alcuni di loro avessero continuato a frequentare la stazione di notte. Molti lo consideravano impavido e spesso Billy Stone doveva affrontare alcune persone alla stazione ferroviaria per mantenere la pace o perché qualcuno voleva dormire al caldo della stazione ferroviaria durante la notte. È possibile che uno di loro si sia arrabbiato con il giovane lavoratore per essere stato sfrattato con la forza? Le autorità hanno vagliato molte piste cercando di capire se fosse questo il motivo che aveva portato Stone a essere ucciso con un colpo di pistola. Mentre la polizia indagava scoprì un'altra possibile pista. Il detective Greer parlò con un uomo di nome Frank Chioto che alloggiava al campo CPR. Chioto gli disse che la notte dell'omicidio aveva avuto uno strano incontro con un uomo dall'aspetto folle vicino al Windsor Hotel. L'uomo lo aveva afferrato poco prima di mezzanotte e aveva minacciato di ucciderlo se non lo avesse accompagnato alla stazione ferroviaria. Chioto riuscì a liberarsi dalla presa e corse per un chilometro fino al campo. Raccontò poi ai suoi amici cosa avesse detto l'uomo e come lo avesse afferrato. Solo il giorno dopo però Chioto venne a sapere dell'omicidio di Billy Stone, Alowit B. Junction. Era convinto che l'uomo che lo aveva afferrato fosse lo stesso che era andato alla stazione ferroviaria e aveva ucciso Billy Stone. Ricordava che l'uomo era basso, circa un metro e 65, ma era talmente spaventato dall'incontro che non ricordava cosa indossasse. C'era quindi la possibilità che quest'uomo insolito fosse l'assassino di Billy Stone? Che cosa ci faceva alla stazione ferroviaria a quell'ora? Stava cercando Billy Stone? Erano passate alcune settimane e l'inchiesta era ben avviata. L'omicidio di Billy Stone aveva suscitato molte speculazioni e interesse, in maggior interesse per un caso di omicidio a Whitby da anni. La sala del consiglio di Whitby era piena di curiosi, parenti, amici di Billy Stone, affranti e persone coinvolte nelle indagini. Il primo a essere chiamato a testimoniare fu Edward O. Killer. Era un controllore di treni di Belleville. Era in servizio la notte dell'omicidio. Stone lo aveva chiamato a mezzanotte e 42. Mi hanno sparato, gli disse Billy Stone. Le forze mi stanno abbandonando, sono sempre più debole. Edward Killer gli chiese se avesse chiamato un medico. Sì, Billy Stone tentò di dire altro, ma la linea cadde e gli fu impedito di parlare ulteriormente con il moribondo. Un'ora dopo, Killer ricevette una telefonata dall'addetto ai bagagli di Whitby e fu informato ufficialmente dell'omicidio. Fu una notizia profondamente sconvolgente, perché Killer e Stone avevano spesso comunicato al telefono per lavoro. Chas A. MacDonald lavorava come agente di manovra sul treno merci che era passato da Whitby subito dopo l'omicidio e fu la persona successiva ad essere chiamata a testimoniare. Disse all'autorità che il treno era in ritardo. Era arrivato infatti all'incrocio della linea di base di Whitby all'1.05 del mattino. MacDonald entrò in stazione per prendere i documenti e due dei suoi uomini scesero dal treno per allineare alcuni vagoni. Dunque MacDonald andò nella sala d'attesa della stazione e trovò quello che gli serviva nell'apertura dello sportello. Non vide Billy Stone, raccolse i documenti e uscì dalla stazione. Spiegò che questo era ciò che faceva normalmente sul suo percorso. L'unica differenza era che di solito Billy era lo sportello. Alla domanda se avesse visto in ufficio Birmingham il miglior amico della vittima che spesso frequentava la stazione durante i turni di notte di Billy MacDonald rispose di non averlo visto. Un altro agente di manovra, un uomo di nome J.R. Langman, confermò la storia di MacDonald. L'operatore notturno della stazione di Oshowa, un uomo di nome Gerald A. Baker ha detto di aver parlato con Billy Stone intorno alle 23.30 e poi di nuovo a mezzanotte e un quarto della notte dell'omicidio. Billy Stone gli aveva chiesto se il treno passeggeri fosse passato. Quella fu l'ultima volta che Gerald Baker gli parlò. Fred H. Hurley, che lavorava come contabile al manicomio, ha testimoniato di essere passato dalla stazione a mezzanotte e 5. Aveva visto Billy Stone che lavorava alla sua postazione, era alla sua scrivania con la luce accesa sopra la testa e l'altra luce ancora accesa sul binario esterno. Fred H. Hurley ha detto di aver visto diverse persone nell'ufficio con Billy Stone durante la notte, anche se non sapeva chi fossero. Al momento dell'omicidio nessuno risultava assente dall'ospedale in cui Hurley lavorava. Farewell, il procuratore distrettuale, cercò di scoprire se Victor Smith, l'operatore diurno della stazione, fosse a conoscenza della vita privata di Stone. Victor Smith disse a Fairwell di non aver mai sentito Stone parlare delle sue relazioni amorose. Smith gli disse che nella zona erano passati due treni merci, il primo alle 22.22 e il secondo alle 22.40. Erano stati segnati sul registro come di consueto, tuttavia la grafia non era quella di Billy Stone, il che era insolito. Victor Smith suppose che potessero essere stati registrati da Birmingham. A volte lo faceva per dare una mano al suo amico. Smith ha poi aggiunto che la serratura della porta dell'ufficio era in cattive condizioni e che chiunque avrebbe potuto facilmente aprirla e accedervi. Ha raccontato anche che una volta Billy Stone era stato sospeso per dieci giorni perché si era addormentato in servizio. Si è parlato di nuovo dei vagabondi che avevano cercato di soggiornare presso la stazione ferroviaria. Secondo Frank Allway, Stone si era scontrato con alcuni vagabondi quattro mesi prima quando aveva dovuto cacciarli via. La notte prima dell'omicidio Stone aveva ancora una volta cacciato tre uomini dalla stazione. Allway era un amico intimo di Billy Stone e vivendo nelle vicinanze conosceva bene l'anderivieni della stazione di Whitby. Secondo Allway, l'impronta di mano insanguinata trovata sull'armadietto potrebbe essere stata l'espettorazione di sangue dalla bocca di Stone dopo che gli avevano sparato. Il personale medico che lavorava alle indagini riteneva che ciò potesse essere plausibile. Leslie Cormack, l'operatrice notturna della stazione telefonica Bell Central, ha detto che Billy Stone l'ha chiamata esattamente a mezzanotte 37 del mattino. Ha ricordato che le aveva detto che gli avevano sparato e aveva chiesto di parlare con il capo della polizia. Nonostante l'abbia prontamente messo in contatto con McGrotty, non sono riusciti a scoprire chi avesse sparato a Stone. McGrotty aveva sentito un suono che poteva essere quello di Stone che appoggiava il ricevitore del telefono sulla scrivania oppure quello del ricevitore che cadeva. Non era sicuro. Gli altri tre testimoni chiamati quel giorno furono il guardiano notturno, John Patterson, il capo, McGrotty, e l'amico intimo di Billy Stone, Birmingham. Henry Birmingham, attenzione, raccontò alle autorità di essere stato quasi colpito da un proiettile nei pressi di Corbett's Crossing, a circa un milio e mezzo di distanza da Whitby Junction. Egli affermò di aver sentito il proiettile sfiorare il suo orecchio e di aver udito distintamente il colpo sparato contro di lui. Questa informazione suscitò grande scalpore nella comunità, poiché alcuni credettero alla storia di Birmingham, mentre altri pensarono che si stesse inventando tutto. Chi avrebbe sparato a Birmingham? Era collegato all'omicidio del suo miglior amico? Era lo stesso uomo armato che stava dando la caccia a entrambi? Perché? Più tardi Birmingham ammise di non aver sentito il proiettile sfrecciare davanti a sé, ma di aver sicuramente sentito lo sparo. Credeva che qualcuno gli avesse sparato contro. La polizia indagò, ma non riuscì a trovare alcuna prova. Birmingham aveva trascorso molto tempo nella stazione di Whitby, con il suo buon amico Stone e fu chiamato alla seduta aggiornata della giuria del coroner, tenutasi il 5 gennaio. In quel momento si riteneva che sia l'aggressore di Hayden Shore Park che l'uomo dall'aspetto folle che aveva afferrato Frank Kyoto vicino all'hotel, fossero falsi allarmi. L'ispettore Greer continuò a indagare nella zona e in altre comunità vicine. Scoprì che un uomo aveva comprato un biglietto a Toronto per Whitby, il giorno prima dell'omicidio. L'uomo era sceso alla stazione di Pickering e, in seguito, era stato visto camminare verso est. Greer cercò l'uomo e riuscì a trovarlo. L'uomo si chiamava Sykers e alloggiava a Wakelow, un villaggio sulla CNR a 20 miglia da Colborne. Interrogato, Sykers disse all'ispettore Greer di non sapere nulla dell'omicidio di Billy Stone. Fu in grado di fornire un alibi per la notte dell'omicidio e, una volta verificato, l'uomo fu rilasciato dalla custodia della polizia. Quella che all'inizio sembrava una pista promettente, si rivelò un altro vicolo cieco. Le indagini continuarono per mesi. Si vociferava continuamente di importanti sviluppi nel caso di omicidio, ma l'inchiesta non portò alla luce nulla di concreto. Tuttavia si riteneva che Billy Stone fosse stato ucciso con un revolver che teneva in un cassetto della scrivania, al quale l'assassino poteva aver avuto accesso. L'ispettore Greer, l'agente speciale Tinsdale, e il signor R. H. Greer, procuratore distrettuale della Contea di York, arrivarono da Toronto in treno. Il treno era in ritardo di un'ora e mezza. Credevano che Farwell, procuratore distrettuale dell'Ontario, non si fosse ancora completamente ripreso da un recente incidente. Farwell, invece, era presente e si mise subito al lavoro per interrogare i testimoni. John Heard, che di solito guidava l'autobus che portava alla stazione per il treno delle 21.30, disse a Farwell che normalmente vedeva Stone ogni sera. Spesso passava da lui e si sedeva nel suo ufficio mentre il giovane lavorava. Heard ha raccontato di aver visto un revolver nel cassetto della scrivania di Stone. alla sua destra e che, in alcune occasioni, ne aveva visti addirittura due. Ogni volta che il cassetto della scrivania veniva aperto, dunque, poteva vedere le pistole nel cassetto. Heard disse di aver visto il revolver la notte dell'omicidio di Billy Stone. Aveva anche visto molto spesso Henry Birmingham nella stazione, ma Heard non era sicuro se il revolver fosse stato nel cassetto della scrivania le volte in cui aveva visto Birmingham lì. Anche un'altra autista di autobus, un uomo di nome James Willis, che guidava per la Heard & Son, era stato spesso in stazione con Stone. Willis disse di aver visto la pistola in numerose occasioni e giurò che anche Birmingham fosse presente in stazione quando il revolver era stato mostrato apertamente. A quel punto il procuratore Greer aveva mostrato un revolver e aveva chiesto a Heard e Willis se fosse quello che avevano visto nel cassetto della stazione. Entrambi gli uomini hanno negato categoricamente che si trattasse della pistola in questione. Il successivo testimone ad essere chiamato fu Fred Thompson. Era il cognato di Birmingham e si riteneva che potesse essere una delle ultime persone ad aver visto Stone vivo. Thompson ha detto a Greer che non sapeva che Birmingham avesse un revolver fino a dopo la sparatoria e che comunque era convinto che si trattasse di un vecchio revolver. Birmingham viveva a casa di Fred Thompson e usciva ogni sera. Quando rientrava, di solito tra le 21.30 e le 22, cercava sempre di non fare troppo rumore. Greer interrogò Thompson sul tipo di conversazione intercorsa tra lui e Birmingham in merito all'omicidio di Billy Stone. Thompson si rifiutò di dire di cosa avesse parlato con il cognato. Secondo Thompson non aveva interesse a parlare dell'omicidio. Thompson considerava Stone un caro amico di famiglia ma si è rifiutato con vehemenza di ammettere che l'omicidio era stato spesso oggetto di discussione tra i membri della sua famiglia, tra cui Birmingham. Venne quindi interrogata la moglie di Thompson che si rifiutò anch'essa di divulgare altre informazioni sulla vicenda. Si rifiutò di dire qualsiasi cosa che potesse coinvolgere il fratello nell'omicidio. La signora Thompson ha ammesso che Billy Stone veniva spesso a trovarli a casa loro per chiacchierare almeno un paio di volte alla settimana. Chiamava spesso quando la sorella della signora Thompson era in visita così come quando un'amica di Pickering si recava a casa loro. Tuttavia la signora Thompson si è rifiutata di dire che si è discusso dell'omicidio a casa loro. Interrogata la signora Thompson ha dichiarato di aver appreso la sconvolgente notizia dal marito. Si era immediatamente precipitata a svegliare Birmingham per dirgli della morte del loro amico. Birmingham era sotto shock. Non riusciva a credere che il suo caro amico fosse stato ucciso. Si era vestito velocemente, aveva fatto colazione e si era precipitato alla stazione di polizia per saperne di più. Greer si sorprese quando seppe che Birmingham si era preso il tempo di fare colazione prima di partire per la stazione di Whitby. Domandò cosa avesse detto Birmingham sull'omicidio al suo ritorno ma la signora Thompson disse che non era stato detto molto sull'argomento. Ammise che nei giorni successivi si chiesero chi avesse ucciso Stone ma che non ne parlarono veramente perché lei non era particolarmente interessata. Greer trova difficile credere che un caro amico di famiglia come Billy Stone fosse stato assassinato sul posto di lavoro e lei non trovasse molto interessante l'argomento. Continuò a interrogarla ma le sue risposte non furono convincenti e lei si rifiutò di parlare dell'argomento in quanto riguardava suo fratello. La signora Thompson ha tuttavia rivelato che Birmingham quella sera era rincasato intorno alle 23. Rimase sul banco dei testimoni per quasi un'ora e mezza mentre Greer cercava di ottenere informazioni da lei. Non ebbe molto successo, la signora Thompson era piuttosto chiusa su tutto quello che riguardava l'omicidio e su qualsiasi cosa Birmingham potesse aver detto sul crimine risolto. Era strano che sia la signora Thompson che il marito fossero così sulla difensiva. Birmingham non era stato considerato come uno dei principali sospettati ma piuttosto un testimone e un amico intimo del defunto. Però l'improvvisa chiusura nei confronti dell'indagine ha messo Birmingham e i Thompson in cattiva luce. La persona successiva a salire sul banco dei testimoni fu la signora William Stone, madre di Billy. Era così sconvolta che rimase al banco dei testimoni solo per pochi minuti. È stato estremamente difficile interrogarla dato il suo evidente stato di agitazione. Ha detto agli investigatori di aver sentito il guardiano notturno Patterson alla porta e di aver svegliato il marito. William Stone andò alla stazione di polizia. Billy aveva stipulato due pollizze di assicurazione sulla vita, ciascuna del valore di mille dollari. Lei era la beneficiaria di entrambe. La persona che salì subito dopo sul banco dei testimoni fu Birmingham, il miglior amico di Billy. Greer e le altre persone che stavano conducendo all'indagine erano molto interessati ad ascoltare la sua dichiarazione e sapevano che interrogato sarebbe stato più disponibile dei Thompson. Birmingham ammise di essere stato con Stone quasi tutte le sere e di essere stato con lui anche la sera in cui era stato ucciso, fino alle 23.30. A quell'ora se ne andò a casa a dormire, era esausto perché era stato sveglio tutta la notte precedente per sorvegliare un passaggio a livello. Birmingham negò di aver visto una pistola nel cassetto della scrivania di Stone. Per quanto riguarda il possesso di armi da parte di Stone, ha ammesso di sapere che Billy avesse un'arma, sebbene la tenesse scarica. Conservava le cartucce nel cassetto. Birmingham non aveva mai messo in dubbio la decisione dell'amico di tenere le cartucce in quel cassetto e non aveva mai chiesto a Stone che tipo di protezione potesse avere nella stazione per scongiurare gli attacchi di eventuali ladri. Non aveva modo di sapere che il revolver conservato nel cassetto fosse scomparso dopo l'omicidio perché sosteneva di non essere a conoscenza della sua presenza in quel luogo. Birmingham ha raccontato a Greer di aver spesso dato il cambio a Stone per circa un'ora se il suo amico doveva lasciare la stazione. Sapeva come segnare i treni nel registro, anche se non era in grado di utilizzare il telegrafo. Birmingham ha negato di aver raccontato a tre giornalisti la storia di aver rischiato di essere colpito da un proiettile presso un passaggio a livello che stava sorvegliando. Disse che non aveva nemmeno dichiarato che un proiettile gli era passato vicino mentre in precedenza aveva affermato che gli era sfrecciato davanti all'orecchio. Greer gli chiese a bruciapelo se sapesse che poteva aver ucciso Billy Stone. Birmingham rispose che no, non lo sapeva. Quando gli fu chiesto se avesse anche solo dei sospetti su qualcuno, rispose che non ne aveva idea perché per quanto ne sapesse lui, Billy non aveva amici. Birmingham era coinvolto nella morte dell'amico? Forse avevano avuto una discussione o forse Birmingham e Stone avevano proprio litigato di brutto quella sera? Anche se non era responsabile lui e Thompson erano a conoscenza dei misteriosi eventi che circondavano la morte di Stone? Perché tutta questa segretezza? Perché mentire alla sbarra o formulare in modo specifico le proprie risposte in modo da essere cauti ed evasivi con la polizia? Si potrebbe pensare che Birmingham avesse qualcosa da nascondere. Perché non hanno voluto riportare le conversazioni avvenute tra di loro? Cosa stavano nascondendo? Il loro comportamento era molto sospetto. Birmingham era stato un amico intimo di Stone. Cosa poteva mai nascondere riguardo alla morte del suo amico? E perché se l'è presa comoda per andare alla stazione ferroviaria dopo aver saputo che Billy Stone era stato ucciso? Si alzò, si vestì e fece colazione prima di uscire di casa. Ci si potrebbe chiedere perché abbia indugiato così tanto invece di precipitarsi alla stazione per cercare di saperne di più su ciò che era accaduto a Billy. Quando le autorità hanno chiamato le persone a testimoniare, sapevano che interrogando i testimoni, i familiari, gli amici e i potenziali sospettati fosse possibile apprendere ulteriori informazioni o chiarire eventuali dubbi sul caso. Ma con i Thompson e Birmingham alla sbarra, la loro testimonianza ha portato solo ad altre domande. Il signor Tinsdale, un detective, parlò delle sue indagini presso la stazione e di come avesse ottenuto da Birmingham un vecchio revolver che gli era stato dato da William Van Valkenburgh, l'addetto ai bagagli che lavorava alla stazione. Tinsdale disse che il revolver era molto vecchio e che non sarebbe mai riuscito a trovare una cartuccia che vi entrasse. Le cartucce nel cassetto della scrivania erano di calibro 32-38, il proiettile che aveva ucciso Billy Stone era un calibro 38 e non sarebbe mai entrato nel revolver scoperto da Van Valkenburgh. L'inchiesta sulla morte di Billy Stone era in corso da mesi ed era stato fissato un incontro un martedì di giugno del 1915. Il capo della polizia, McGrothy, si recò alla residenza degli Stone il sabato pomeriggio con un mandato di comparizione per William Stone Senior per partecipare all'inchiesta come testimone. McGrothy lasciò la residenza degli Stone alle 3 del pomeriggio. William Stone aveva lavorato quella mattina e si era poi fermato al Royal Hotel per bere qualcosa. L'inchiesta sulla morte di Billy Stone era in corso da mesi ed era stato fissato un incontro un martedì di giugno del 1915. Il capo della polizia, McGrothy, si recò alla residenza degli Stone il sabato pomeriggio con un mandato di comparizione per William Stone Senior, ossia il padre di Billy, per partecipare all'inchiesta come testimone. McGrothy lasciò la residenza degli Stone alle 3 del pomeriggio. William Stone aveva lavorato quella mattina e si era poi fermato al Royal Hotel per bere qualcosa. Quella sera tornò a casa solo verso le 6, fu allora che la moglie gli disse del mandato di comparizione. William Stone era piuttosto ubriaco e, a quel punto, prese male la notizia che sarebbe stato chiamato a testimoniare. Si agitò parecchio. «Stanno cercando di collegarmi all'omicidio! Andrò a gettarmi nel lago!» gridò. Ha iniziato a comportarsi in modo strano, poi è uscito di casa. Si è diretto verso sud, verso i binari della ferrovia. Stone aveva intenzione di gettarsi nel lago Ontario. Ma, quando passò davanti alla stazione ferroviaria di Whitby, fu soprafatto dalle emozioni. Aveva raggiunto l'alto argine che sovrasta i binari quando vide che un treno si stava avvicinando. Cominciò a scendere, poi si gettò sui binari davanti a un treno merci diretto a ovest. Il macchinista lo vide sui binari e cercò subito di fermare il treno. E il treno si fermò, ma era troppo tardi per impedire che William Stone Senior venisse schiacciato a morte da diversi vagoni che gli passarono sopra. Fu decapitato e il suo corpo fu tagliato in due. I suoi resti mutilati furono raccolti e trasportati in una cassa delle pompe funebri. La giuria, nominata dal medico legale, ne prese visione. La sua morte è stata considerata un suicidio, ma lo statuto impone l'inchiesta sulla morte causata da un treno ferroviario. Agli occhi dell'opinione pubblica, William Stone Senior era il probabile colpevole dell'omicidio del figlio. Questo perché temeva di salire sul banco dei testimoni e il mandato di comparizione lo spaventava a tal punto da togliersi la vita per evitare di testimoniare. È importante ricordare tuttavia che l'omicidio di Billy Stone è ancora oggi considerato irrisolto, più di cento anni dopo che gli hanno sparato. William Stone Senior aveva destato i sospetti dell'investigatore in numerose occasioni negli ultimi sei mesi. In particolare aveva aggredito la giovane figlia dopo l'omicidio del figlio e aveva minacciato di ucciderla. In seguito alle sue minacce è stato trattenuto per settimane con l'accusa di aggressione, anche se la polizia non aveva prove per arrestarlo per l'omicidio di Billy Stone. L'inchiesta è proseguita quel martedì, come previsto, anche se non si è riusciti a trovare alcuna prova su chi avesse ucciso Billy Stone. Per questo motivo l'opinione pubblica si convinse ancora di più che William Stone Senior, il padre di Billy, fosse coinvolto nella morte del figlio. Per molti cittadini non c'era altra spiegazione. Fu una grande perdita per la famiglia Stone. Insomma, la signora Stone aveva seppellito il figlio a dicembre e sei mesi dopo dovette celebrare il funerale del marito. La comunità si strinse attorno alla vedova e alle sue giovani figlie il giorno dell'estremo saluto. Anche se il marito aveva fatto cose terribili come minacciare di uccidere una figlia e forse uccidere un figlio, la signora Stone era considerata un membro molto rispettato della comunità. Durante l'inchiesta la signora Stone è stata interrogata su quando il defunto marito era arrivato a casa e su cosa fosse successo dopo chi aveva saputo del mandato di comparizione. Ha detto che prima di tutto non ero ubriaco. Se lo fosse stato non avrebbe mai dato al marito il mandato di comparizione. Appena l'ha letto, William Stone ha iniziato a piangere in modo incontrollato. Disse, mi accuseranno delle prove di Peterson e mi metteranno in prigione a vita. Stone Senior disse alla moglie che voleva negarsi ma lei non pensò che fosse serio. Anche perché in passato aveva fatto minacce simili senza mai metterla in pratica. La donna ha detto che negli ultimi mesi il marito era preoccupato e sconvolto e che le persone gli dicevano cose dure, cattive. Questo probabilmente perché molte persone a Whitby lo ritenevano uno dei principali sospettati del macabro omicidio. All'inchiesta era presente anche il personale del treno che ha testimoniato in merito alla morte di Stone Senior. La giuria era convinta che William Stone Senior si fosse suicidato poiché si era fermato per un momento vicino ai binari prima di gettarsi giù. La giuria emise quindi un verdetto di suicidio. William Stone Senior fu sepolto nella tomba di famiglia della chiesa di St. John dove erano già sepolti i suoi due figli. E quando la signora Stone morì negli anni 40 anche lei fu sepolta in quella tomba. Più di un secolo dopo la morte di Billy Stone la gente è ancora curiosa di sapere cosa sia realmente accaduto in quella fredda notte di dicembre del 1914. Per alcuni il fatto che il padre di Stone si fosse comportato in modo così strano e si fosse poi suicidato prima di essere citato in giudizio era una prova sufficiente per credere che fosse lui l'assassino. Ma per altri ci sono ancora dei dubbi su questo fatto. Ci sono ancora molti interrogativi su chi possa avergli sparato. È un crimine che probabilmente continuerà a rimanere risolto. Le persone coinvolte nella vicenda sono morte da anni e le prove raccolte sulla scena del crimine sono poche. Sebbene gli investigatori abbiano seguito molte piste e ci siano state diverse persone coinvolte non sono mai riusciti a scoprire cosa si è successo quella notte. Si ritiene che il fantasma dell'operatore telegrafico morto continui a infestare l'edificio della vecchia stazione ferroviaria. Alcune persone hanno visto una figura spettrale attraversare i muri dell'edificio. Nello specifico, i luoghi in cui sono sempre stati avvistati i fantasmi sono quelli in cui le porti originali della costruzione sono state murate. Detto questo ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate secondo voi chi è il colpevole. A me dispiace ma io ho un grosso dubbio su suo padre. Ma un grosso dubbio su suo padre. Anche se effettivamente ci sono davvero pochissime, pochissime prove. Ma sono curiosa di sapere anche la vostra. Quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti. E nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.